Il pubblico da casa ha detto la cazza a tutti. Va bene. Va bene. Tocca a te. Do you know the best motherfucker, man? What the fuck? Guarda, sono ancora sopra. Quanto fa 7x7? 48. 48. Beh, di quanto? Diciamo la strunzata. Marini. Di ventre di Taranto. In provincia di Bologna. Come avrete capito, il pubblico ha avrato. Non metta le mani su... E' un testo che le ha piaccionato. No! 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 No!